NCC locali sulle barricate per protestare contro i continui blitz delle forze dell'ordine a largo della pace, chiesto l'aiuto del comune. E tutti contro tutti tra le forze politiche dopo la decisione della regione di dirottare la discarica di Civitavecchia parte dei rifiuti di Roma. Il presidente del Parlamento europeo Antonio Tagliani questa mattina a Santa Marinella ha fatto il punto sulla situazione della gestione migranti. Successo anche quest'anno per Pompieropoli la manifestazione dedicata ai bambini organizzata dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Un allenatore giovane per una squadra giovane alla corte del nuovo tecnico del Civitavecchia Andrea Rocchetti ha anche tre quarti senior di spessore. Buonasera e bentrovati. Dura presa di posizione degli NCC riguardo la questione della regolamentazione del lavoro a largo della pace. La reazione degli autisti fa seguito alle multe fatte dalle forze di polizia qualche giorno fa. Gli NCC chiedono al comune un aiuto affinché possano lavorare senza le difficoltà che hanno ogni giorno. Ascoltiamo le interviste. Maria Cottuno ha una situazione di difficoltà quella che c'è proprio a largo della pace per voi NCC. Ci spiega la situazione? Perché è molto problematica. La seconda volta quest'anno arriviamo giù per lavorare e troviamo schieramenti di polizia. Si dice, nasconditevi. Perché ci dobbiamo nascondere? Quello è il problema. No, perché applicano leggi abrogate, cioè sospese, la 29 quattro. Va bene, ma non è quello il problema. Non facciamo una bella figura come l'immagine che portiamo con questi croceristi che scendono e si trovano circondati da questa polizia. A me, i miei amici mi parlano e dicono, oh, vi hanno arrestato tutti perché la polizia magari è combinato. Tocca spiegargli tutta la situazione, che è una situazione un po' complessa. Premetto che questo lavoro ce lo siamo creati da soli. Non abbiamo chiesto niente. Lo facciamo in un modo onesto e corretto. Nessun crocerista si è mai lamentato di noi che gli è sparita una cosa. Assolutamente. Anche la polizia ce ne ha dato. Però purtroppo è una situazione un po' strana. Stiamo a largo della pace, paghiamo fior di soldi per stare dentro. Il comune ci mette di vieto di fermata. Al momento che nel nostro box all'interno ci prendono il viaggio, come ci fermiamo? Ci fotografano la macchina e ci mettono la multa. Questa è una cosa illegale dalla parte del sindaco, che non ha voluto mai dirci dove dobbiamo caricare i croceristi. Io ho lavorato per 33 anni all'azienda di soggiorno e turismo. Credo di aver capito come funziona il turismo. Mentre si prospetta dal comune Cilecchia di spostarli tutti alla stazione per mandarli a Roma. Ma questi sono soldi che a Cilecchia farebbero comodo e farebbero lavorare delle persone. Mi ha risposto il sindaco di Bracciano e il sindaco di Cerveteli che ha capito, cioè voglio dire, bisogna pure promuovere il circondario. E no, si fa solo Roma. A Cilecchia i croceristi portano solo inquinamento e non benessere. Abbiamo chiesto più volte al sindaco di venirci incontro. Dico, no, prende questi autobus e li porta alla stazione. I croceristi passano solo per Civitavecchia, senza fermarsi a prendere un gelato, una maglietta. E gli dico che i commercianti sono tutti scontenti di questo. Il comune di Civitavecchia cerca di migliorare il servizio di videosorveglianza. Palasso del Pincio ha fatto domanda di finanziamento per accedere ai fondi messi a disposizione dalla Prefettura di Roma con il decreto ministeriale del 31 gennaio 2018. In particolare l'amministrazione ha redatto un progetto per un totale di 107.400 euro che in caso di approvazione sarà finanziato al 60% con i fondi richiesti e al 40% con i fondi comunali. L'assessore all'innovazione tecnologica, Gioia Perrone, spiega che la videosorveglianza è un tema che sta particolarmente a cuore all'amministrazione e oltre agli investimenti già effettuati e lavori in itinere grazie all'ottimo lavoro dell'ufficio, contiamo di continuare ad investire sulla videosorveglianza cercando di cogliere l'opportunità messa a disposizione della Prefettura. L'intenzione di Palazzo del Pincio è quindi quella di implementare ulteriormente gli impianti esistenti per rafforzare la sicurezza nel centro cittadino individuando nove aree centrali da sorvegliare ed inoltre intervenire su alcune telecamere collocate in aree periferiche, ma il cui segnale viene registrato in loco attraverso sistemi radio che oggi si ritiene opportuno adeguare nuovi standard di sicurezza del segnale. Secondo la Perrone con la realizzazione del progetto si raggiungerà l'obiettivo del monitoraggio di un'apprezzabile area centrale e di alcune aree strategiche limitrofe al centro urbano. E si prospetta davvero un'estate calda sulla fronte rifiuti. La decisione della regione Lazio di riaprire dal prossimo 1 luglio la discarica di Civitavecchia per consentire il conferimento di una parte dei rifiuti provenienti dalla capitale sta determinando polemiche roventi. E' un tutti contro tutti che coinvolge tutte le forze politiche. Vediamo. Tutti contro tutti appassionatamente. Potrebbe essere il titolo di un eventuale docufilm che volesse raccontare la vicenda rifiuti di Roma Civitavecchia sulla quale tutte le forze politiche si mostrano l'un contro l'altra armata. È davvero indecoroso l'atteggiamento del sindaco Cozzolino che parla di ennesimo accanimento nei confronti di Civitavecchia da parte della regione Lazio sulla questione della gestione dei rifiuti e della discarica di Fosso Crepacuore. È quanto dichiara il consigliere regionale dell'APD Marietta Tidei che commenta le parole del primo cittadino definendo la giunta Zingaretti e puntando il dito sull'amministrazione Raggi. Per Marietta Tidei invece di attaccare la giunta Zingaretti e di tirare in ballo una ricostruzione faziosa dei fatti, Cozzolino farebbe bene a pretendere spiegazioni dalla sindaca di Roma che non è stata capace di intervenire sulla questione dimostrando incapacità amministrative che sono sotto gli occhi di tutti. La consigliere regionale del PD ricorda l'era apertura della discarica di Fosso Crepacuore, fa parte di un processo giudiziario e amministrativo che è arrivato a conclusione in questi giorni e che se si deve fare ricorso all'impianto è per colpa delle innumerevoli criticità legate alla gestione dei rifiuti a Roma. È l'incapacità di individuare un sito nel territorio del comune di Roma conclude Tidei che ha determinato questo caos e quindi consigliamo a Cozzolino di suonare la sveglia alla sua collega Raggi, non alla regione perché è l'ora delle responsabilità non quella delle accuse e della campagna elettorale permanente. E sulla questione interviene anche il coordinatore locale di Forza Italia, Roberto Dottavio, per il quale è doloroso per la popolazione di Civitavecchia e del suo comprensorio assistere al rimpallo di responsabilità tra Movimento 5 Stelle e Centrosinistra con lo scenario di un gioco delle tre carte alle spalle del territorio. Dottavio sottolinea che alla regione i 5 Stelle hanno fatto in modo che la giunta Zingaretti si insediasse nonostante non avesse i numeri ed è paradossale che adesso se la prendano con la stessa giunta. Facessero una mozione di sfiducia, aggiunge, e mandiamo a casa Zingaretti. Perché non lo fanno? Perché la colpa è sempre degli altri? Perché secondo il coordinatore di Forza Italia non c'è una progettualità per la città, un progetto per il lavoro, un'idea di sviluppo. Iniziare con una discarica vuol dire fare di Civitavecchia un probabile centro di raccolta rifiuti che rovinerebbe per sempre i progetti che abbiamo in mente per la città e per i giovani. Dottavio propone quindi di organizzare una manifestazione come quella fatta per bloccare l'hub per gli immigrati e alla quale si augura che questa volta partecipano tutte le forze politiche. Oltre a un danno, la riapertura della discarica per accogliere i rifiuti di Roma sarebbe una beffa per i Civitavecchiesi. Lo sostiene il circolo almirante Fratelli d'Italia per i quali dal 2015 i rifiuti di Civitavecchia devono essere trasportati a Viterbo, dove possono essere sottoposti a trattamento e conferiti successivamente in una discarica con costi esorbitanti che vanno a gravare sulla Tari pagata dai cittadini. Per Fratelli d'Italia è grottesco leggere che esponenti dell'amministrazione pentastellata di Civitavecchia e del PD protestino contro la decisione della regione Lazio quando il presidente Zingaretti guida la regione grazie al sostegno proprio di questi due partiti con i loro consiglieri regionali tra i quali uno di Civitavecchia risultano determinanti a garantire la maggioranza di governo al presidente Zingaretti. Fratelli d'Italia si dichiara quindi pronto alla mobilitazione per opporsi senza compromessi o epocrisie con forza alla decisione di far diventare Civitavecchia la discarica di Roma. Potere al popolo definisce scandalosa la determina regionale con la quale a suo giudizio si spalancano le porte ai rifiuti di un intero territorio in una città alla quale è stato già imposto negli anni quanto di più dannoso possa esistere in termini di inquinamento. Potere al popolo definisce quindi scellerata la decisione assunta dalla regione Lazio nonostante la presenza in consiglio di ben tre rappresentanti eletti dai cittadini di questo territorio. Per il partito della sinistra le colpe del sindaco Raggi in materia di rifiuti sono più che evidenti. Come evidenti appaiono l'imbarazzo e maldestri tentativi di evitare di affrontare concretamente il problema da parte di chi oggi governa insieme a Zingaretti. Una presenza particolarmente importante e qualificata questa mattina a Santa Marinella dove il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha voluto presenziare ad un'iniziativa del candidato sindaco del centrodestra Bruno Ricci. È stata anche l'occasione per fare il punto sull'argomento più dibattuto del momento ovvero la gestione dei migranti. Sentiamo. Sull'immigrazione condivide la linea del governo? Sull'immigrazione serve dare una risposta chiara, breve, media e lungo termine. Certamente bisogna fare in modo che l'Europa non sottovaluti la questione, che trovi un accordo, che si abbandonino gli egoismi perché la soluzione a un problema così grave può essere soltanto europea. Poi bisogna investire la stessa cifra che è stata investita in Turchia per bloccare i flussi dalla Libia. Poi bisogna dar vita ad uno stato libico che sia in grado di essere un interlocutore. Poi bisogna avere un vero piano Marshall per l'Africa e un investimento di miliardi e miliardi di euro non può che essere frutto di un'azione dell'Europa, non può essere l'Italia da sola o la Francia o la Germania da sola. Serve un investimento importante dell'Europa. Per quanto riguarda il Partito delle Forze Italia, Occhio Battistoni hanno cambiato il colore da giallo a blu dei collegi in ottica regionale. Lei che è il vicepresidente in pectore vede i nuovi equilibri regionali. Io vedo in questi due parlamentari che sono giovani ma hanno anche una consolidata esperienza che conoscono bene il territorio perché sono state anche amministratori locali, quindi sanno che cosa vuol dire il rapporto diretto con il territorio e il rapporto diretto con i cittadini. Io li vedo e li sento sempre in giro per il collegio a parlare con la gente per cercare di risolvere i problemi. Così dovrebbero essere tutti i parlamentari, così dovrebbe essere il rinnovamento che Berlusconi intende avviare in Forza Italia. Direi che Battistoni e Battilocchio sono due esempi da seguire. Io sono molto fiero di loro, sono contento che rappresentino questa parte del Lazio perché lo stanno facendo molto bene, sempre ascoltando il territorio, sempre ascoltando la gente e perché stanno sempre in mezzo alla gente. Cominceranno con via Guido d'Arezzo, via Pergolesi e via Cimarosa i lavori di rifacimento del manto stradale nella frazione di Val Caneto. Lo annuncia l'amministrazione comunale di Cerveteri come stipulato nell'accordo firmato con il Comune. Infatti Italgas procederà alla riasfaltatura di tutte le strade interessate negli allacci della rete del metano. Nei prossimi giorni si inizierà in queste tre vie dove gli allacci sono stati già totalmente completati a man mano che si procederà nel resto del territorio. Un'estate ricca di appuntamenti insieme ai Rioni, alle associazioni e ai comitati di zona e tanti artisti della nostra città. Proponiamo un calendario ricco di eventi sin da questo weekend fino a settembre che coinvolgeranno tutto il territorio con tanti spettacoli capaci di coniugare qualità e tradizione. Così Federica Battafarana, assessore alle politiche culturali del Comune di Cerveteri, ha presentato il programma dell'estate Cerite 2018 al via già dalla prossima settimana con gli immancabili saggi di danza delle associazioni del territorio. Oltre a questi in programma spettacoli di teatro, cabaret, concerti, esibizioni di danza, cinema all'aperto, mostre artistiche, le feste dei Rioni e le immancabili feste organizzate nelle frazioni. Fino alla punta di diamante dell'intero programma estivo rappresentata dalle Sagra dell'Uva e dal Vino dei Colli. Questi contatti del nuovo gestore Aceato 2, cui tutti i cittadini potranno fare riferimento per tutte le problematiche e le richieste riguardanti il servizio idrico. Per la segnalazione di guasti si può contattare il numero verde 800-130-335. Ripeto, 800-130-335. Gratuito e attivo H24. Per tutte le informazioni e richieste commerciali il numero verde da chiamare è 800-130-331. Gratuito da rete fissa e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19 e sabato dalle 8 alle 13. Sul sito web www.acea.it si possono utilizzare i servizi digitali, mentre gli sportelli col pubblico si trovano presso la sede del comune di Civitavecchia e sono aperti da lunedì al giovedì dalle 8 e un quarto alle 13. Pompieropoli, atto terzo. Fino a domani al Parco Oliveto andrà in scena la terza edizione della manifestazione organizzata alla Caserma Bonifazi dei Vigili del Fuoco di Civitavecchia. Come sempre sono previsti due percorsi per bambini che vogliono divertirsi in armonia. L'obiettivo dei Vigili del Fuoco è quello di far conoscere il lavoro ai più piccoli e migliorare le loro capacità coordinative. Ascoltiamo le interviste. Terza edizione di Pompieropoli, qui all'Oliveto, nuovamente quest'anno in coincidenza della centesima anniversaria della scomparsa di Bonifazi. Come sta andando questa edizione? L'edizione sta andando benissimo, come sempre. Le aspettative sono sempre alte perché comunque sia i nostri fan, i piccoli fan, sono sempre molti a partecipare. La coincidenza del centenario della morte di Fortunato Bonifazi, non a caso la Caserma porta il suo nome e noi cerchiamo di fare il nostro meglio, come sempre, per onorare l'operato di chi prima di noi ha servito il corpo nazionale. Quindi un'administrazione molto importante, ma anche il salario è premiato quest'anno, dopo giorni di pioggia? Beh, fortunatamente il tempo, diciamo, ci sta assistendo, ci sta assistendo. Speriamo continui così, un pochino nuvolo, un pochino di sole. Per ora va bene così, insomma. Come sono questi percorsi per quanto riguarda i bambini che li stiamo vedendo? Sono davvero tanti? Sì, dunque, il percorso in effetti rappresenta un po' quello che noi facciamo nell'addestramento reale, grosso modo. È fatto chiaramente in scala ludica e facciamo divertire i bambini attraverso questo percorso, il sovrappimento di vari ostacoli, con l'intento di conferire loro le norme basilari della sicurezza, insomma. Ecco, il fatto che indossano un imbrago, un elmetto e quant'altro. Torna anche quest'estate il centro estivo di Civitavecchia Servizi Pubblici, che sarà svolto dal 2 al 31 luglio 2018 presso la Scuola Comunale Materne, i bambini di Beslan, sita in via dell'Immacolata. L'assessore all'istruzione Alessandra Leci spiega che l'amministrazione ha voluto riproporre l'iniziativa dopo il successo dello scorso anno e che la scelta di prevedere l'integrazione fra 10 bambini diversamente abili e 20 normodotati innansa di molto il valore educativo del centro gestito da personale qualificato. Il centro estivo funzionerà da lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 ed avrà un costo di 100 euro mensili. Per celebrare la ricorrenza del 182esimo anniversario della Fondazione del Corpo dei Bersaglieri, Bersaglieri, datata 18 giugno 1836, la locale sezione Bersaglieri ha organizzato per domani una cerimonia che si svolgerà in due momenti. La prima fase con inizio alle 11 avrà luogo davanti al monumento dedicato al fondatore del Corpo dei Bersaglieri, Capitano Alessandro Lamarmora, in Viale Garibaldi dove verrà deposta una corona d'alloro. La seconda fase della cerimonia prevede lo sfilamento dei partecipanti su Viale Garibaldi per raggiungere piazzali degli eroi dove verrà deposta una corona d'alloro al monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. A seguire la fanfare e il complesso bandistico daranno vita ad un duetto scherzoso musicale con l'esecuzione di canzoni bersaglierische e inni patriottici. Festa grande questa sera per il centro sociale polivalente Anna Magnani festeggia i 30 anni dalla sua fondazione alle 21 presso la sede di Via Bernardini e in programma una serata dal titolo 30 anni di noi e alla quale sono invitati soci e cittadini. Non poteva l'ampio e variegato dibattito sui migranti che si respira da oltre una settimana in Italia non suscitare la curiosità e la riflessione di Pasquino. A quello che rimane uno degli argomenti di cui più si discute in questo periodo l'anonimo poeta dialettale riserva i versi del suo sonetto settimanale e come spesso accade il pensiero di Pasquino è assolutamente controcorrente rispetto a quello che appare il sentire comune. Sentiamo. E questo qui sarebbe il cambiamento. Abbandonando il mare e i disgraziati in fuga dai paesi martoriati si sta a perdere persino il sentimento. Ogni cristiano che si abbatte il petto e chiede la salvezza personale sa bene cade contro la morale, trattà l'essere umano da reglietto. Stiamo a cambiare davvero nel profondo. Diventiamo razzisti e intolleranti. I poveracci rimaniamo a fondo schiacciati nelle barche dei migranti. Ad è così che si trasforma il mondo quando vanno al governo l'arroganti. TRC Telecivita Vecchia informa i suoi affezionati telespettatori che nella mattinata di martedì 19 giugno dalle ore 9 e 30 in poi per un intervento sulla linea elettrica effettuato da Enel il suo segnale non sarà visibile. Nella giornata non andranno in onda le edizioni del telegiornale delle 12 e 30, delle 13 e 50 e delle 15 e 30. E con questa notizia termina qui il nostro telegiornale ma restate con noi perché a breve ci saranno le notizie di Sportime 24. Grazie per l'ascolto, auguro a tutti un buon fine settimana. Avifer realizza porte e cancelli, finestre in fissi in alluminio e PVC. Avifer di Vigliante, Elvio e Luca è in Vienenne a 9A in zona industriale. Ben trovate ad una nuova edizione di Sportime 24 che apriamo parlando di calcio. Un allenatore giovane per un progetto che valorizzi tanti ragazzi del vivaio. Questo l'obiettivo principale per il Civitavecchia che ha scelto di affidare la panchina della prima squadra ad Andrea Rocchetti. Un tecnico ambizioso e che conosce benissimo l'ambiente e tanti dei giocatori che andrà ad allenare visti i suoi trascorsi nerazzurri. Ascoltiamo le sue parole nella prima intervista da nuovo allenatore del Civitavecchia. Nuovo allenatore del Civitavecchia Andrea Rocchetti. La prima domanda è sulle emozioni che provi. Sei emozionato? Sei contento? Qual è l'emozione che prevale? Sicuramente una volta che ho preso dal presidente della notizia sono stato felicissimo perché come avevo già annunciato un mese fa per me era un sogno e una speranza. Sicuramente ha portato bene. Oggi si è avverato questo sogno e ora dobbiamo metterci sotto per fare il massimo e raggiungere il nostro obiettivo. L'obiettivo per noi diventa la permanenza in categoria e fare un bel campionato e soprattutto far crescere ancora di più il nostro vivaio. Conoscendo te i tuoi trascorsi nel vivaio del Civitavecchia, quindi si ripartirà dai tanti giovani bravi che ha il Civitavecchia? Sicuramente. È un progetto fondato sui giovani, con un allenatore giovane e intorno a questi ragazzi validissimi andremo ad inserire alcuni ragazzi più grandi con l'esperienza giusta per aiutare questi nostri giovani a crescere ancora di più. Immagino che ancora nomi non se ne facciano, ma hai già in mente quali sono i ruoli da rinforzare nel Civitavecchia? Beh, sicuramente sappiamo dove intervenire. Oggi ci incontreremo con la società per vedere un attimino quello che possiamo fare e dove possiamo intervenire per migliorare l'organico. A fine campionato sarai contento se il Civitavecchia raggiungerà che cosa oppure se giocherà in che modo? Ma ancora è prematuro. Sicuramente la nostra felicità avverrà soltanto quando avremo raggiunto il nostro obiettivo. Dopodiché in base all'organico, alla composizione della rosa e tutto quanto vedremo come giocare e via dicendo. Ecco, quindi tatticamente hai già un'idea di come far giocare la Civitavecchia, il modulo magari, oppure vedrai poi con i giocatori che hai a disposizione? Vediamo prima come sarà composta, ripeto, la rosa e dopodiché valuteremo attentamente tutto quanto. Ultima domanda, vuoi promettere qualcosa o dire qualcosa ai tifosi? Noi daremo il massimo, io in primis per cercare di far divertire e star bene la gente che viene a vedere la partita. Promettere secondo me è impossibile. Ripeto, daremo tutto quello che possiamo dare perché questo sarà il nostro principio per raggiungere appunto l'obiettivo e far divertire chi viene allo stadio a vedere la partita. Parliamo adesso di pallannuoto. La fin ha diramato i calendari della Final Four del play-off del campionato di Serie B a cui parteciperà la Coser Metà. Per le gialloblui, il concentramento di Avezzano inizierà sabato 23 alle 16.30 con il match contro i Castelli Romani, unica squadra a sconfiggere le Civitavecchiesi fino a questo momento in stagione. Domenica due partite alle 9.15 contro il Tolentino, vincitore del Girone Marche-Umbria, mentre alle 14.30 sfida conclusiva con il Briz che si è imposto nel raggruppamento siciliano. Parliamo adesso di automobilismo. La conferenza dei servizi che ha detto sia la sesta edizione dello slalom Civitavecchia Terme Traiane che si svolgerà come previsto domenica 24 giugno sulla strada dei Sassi Cari. Anche quest'anno confermato il servizio di bus navetta per gli appassionati che vorranno seguire la gara che farà la spola tra il parco Acqua Felix ed il percorso. I piloti saliranno per quattro volte, una di prova e tre di manche di gara, anche se potrebbe aggiungersi una quarta, cosa che verrà decisa nei prossimi giorni. Chiudiamo con il canottaggio. Proseguono i preparativi per la 39esima edizione del Paglio Marinaro dell'Assunta e del Saraceno, previsto per il 28 e 29 luglio. Previsto anche il Paglio dei Tre Porti, giunto al suo decimo anniversario. L'associazione Mare Nostrum 2000, l'organizzatrice dell'evento, informa che sono ancora aperte le iscrizioni nella categoria senior, sia maschile che femminile. Bene, era questa l'ultima notizia di Sportime 24. Siamo ai saluti. Vi ricordo però che adesso ci saranno le informazioni delle meteo. Grazie per l'attenzione e un buon proseguimento con i nostri programmi.